Un uomo di 64 anni ha nascosto per tre mesi il cadavere della compagna 80enne in casa. Quando lo hanno scoperto il corpo è stato portato via il 64enne, ha chiesto al pubblico ministero di poter assistere all'autopsia della donna. Mi manca troppo, per favore. Ha spiegato al PM che ovviamente ha respinto la sua richiesta, secondo quanto riportato dal messaggero 64enne e indagato per occultamento di cadavere. Ma è stata richiesta una perizia psichiatrica per verificare le sue condizioni mentali. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe morta per cause naturali, ma i carabinieri che indagano sulla vicenda vogliono vederci chiaro e capire se per caso l'ottantenne percepiva redditi o pensioni e se l'uomo li prendeva al posto suo. Dopo il decesso, lui sostiene di non essere a conoscenza del fatto che i decessi vanno comunicati e asserito di essersi preso cura del cadavere della compagna lavandoli e avvolgendoli in un lenzuolo. Non voleva separarsene, ha dichiarato, perché non poteva vivere senza di lei.